Il segretario del PD Enrico Letta anticipa al TG1 alcune proposte che i democratici porteranno al Premier Draghi domani nell'incontro appunto a Palazzo Chigi sul Covid. Dice vaccinarsi è fondamentale per evitare altri lockdown. L'intervista è di Paola Cervelli. Segretario Letta, partiamo dal Covid. Tra quarta ondata e variante c'è il rischio di vanificare la strada fatta finora? Insomma potrebbero esserci nuovi lockdown? Il rischio c'è, però io sono fiducioso perché fino adesso abbiamo fatto le scelte giuste che ci hanno evitato di trovarci, come altri paesi, in semi-lockdown. Dobbiamo vaccinarci, adesso c'è la nuova fase della campagna vaccinale, facciamolo come abbiamo fatto fino adesso, eviteremo nuovi lockdown, salveremo vite umane e l'economia ripartirà. Capitolo manovra, il Premier Draghi sta incontrando i partiti di maggioranza, domani tra l'altro tocca al PD. Ma si riuscirà davvero ad evitare il tutti contro tutti e il consueto assalto alla dirigenza che si verifica in questi casi, su una manovra tra l'altro già di ben 30 miliardi? Il metodo è quello giusto, il governo incontra i partiti politici come avevamo chiesto, ognuno arriva con le sue idee, la nostra proposta domani sarà soprattutto sul tema della non autosufficienza, questione drammatica che tocca tante famiglie italiane, ma sono sicuro che alla fine insieme troveremo le giuste intese ed eviteremo quell'assalto alla dirigenza che in questo momento non avrebbe senso. Lei sta lavorando alla costruzione di un campo largo di centro-sinistra, ma quanto ampio deve essere questo campo e soprattutto pensa di riuscirci davvero? Ci riusciremo se sarà un'iniziativa che parte dai cittadini, non sigle, partiti politici, le agorademocratiche sono questo, iscrivendosi al sito www.agorademocratiche.it si può partecipare a questo che è un grande esercizio di democrazia partecipativa. Senta, su Tim lei oggi ha incontrato i sindacati, come la vede? Preoccupato? La preoccupazione c'è, i lavoratori sono tanti, il settore strategico, chiediamo al governo di seguirlo veramente con grande attenzione. Prima di chiudere una battuta inevitabile sul Quirinale, lei dice se ne parlerà dopo la manovra, però almeno un profilo ce lo può dire? La cosa importante è che votiamo il nuovo, la nuova Presidente della Repubblica con la maggioranza più larga possibile, questo sarebbe già un segnale importante.